Per me questo è un punto chiave, l'Italia deve essere all'avanguardia, è il secondo impegno che prendiamo. Non ci accontentiamo di aver ridotto la disoccupazione ai minimi degli ultimi 4 anni, ancora non basta, ma il futuro dell'occupazione è nella rete. Allora, terzo e ultimo punto, benissimo le infrastrutture, la principale infrastruttura è la banda larga e la banda larga significa, come ci siamo detti, arrivare almeno con 30 megabyte, praticamente in un arco di tempo preciso e stabilito con la possibilità di entrare in tutti i comuni con il livello minimo di banda larga, ma avere molte realtà che possano andare a banda ultra larga con i 100, soprattutto andare a 100 all'ora, si sarebbe detto, e poi non è 100 all'ora, ma comunque viaggiare con la velocità massima perché questo consente la possibilità di stare in un altro mondo, in un'altra dimensione. Siamo partiti con vari progetti, su questi stiamo lavorando.